Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Leonardo Bardazzi. A causa della pioggia prevista in aumento durante la mattinata, si raccomanda prudenza lungo tutta la rete stradale autostradale toscana. In A1 per lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, fino alle 9 di stamani sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud verso Bologna e sempre in A1 resterà chiusa fino alle 9 di stamattina per lavori in corso l'area di servizio Chianti-Est in direzione Bologna. Sulla strada statale 719 Prato-Pistoia da lunedì prossimo 8 febbraio saranno eseguiti gli interventi di manutenzione programmata dei giunti di dilattazione del viadotto che sovrappassa via San Quirico a Prato. Il traffico in direzione Firenze sarà deviato sulla viabilità secondaria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!